Ciao a tutti amici, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. A quanto pare c'è una persona importante che attende proprio me. Oh, la statua della scuola sta brillando. Ma c'è un passaggio segreto lì sotto. Ok, andiamo. Wow, sono senza fiato, ma dove corri Alex? Shhh. Devo andare avanti? Ma dove ti nascondi che non c'è niente per nascondersi? Che combini? Eh. Qui è tutto a posto. Ma sì, non dovrebbe esserci nessuno in teoria. A parte che c'è un insegna per prendere l'aereo. Lui ci aspetta. Lui è qui. Ma chi? Io. Ma come io? Cioè, è talmente famoso che io basta la voce. Questa voce non mi è nuova. Sapevo che l'avreste riconosciuta. E ora indovina di chi si tratta? Ehi là! E vabbè, volando arriva. Fa l'elicottero. Mario? Beh, sì, anche io sarei eccitato a riconoscere Mario. Ebbene sì! Vabbè, sì, non faccio la voce da Mario, se no mi strozzo. Ma Alex! Mario è venuto a prenderti, Max! Sapevi che Mario sarebbe venuto a prendere il campione? Proprio no! Davvero non lo sapevi? È certo! Non importa, ora che sei un campione Mario ti porterà con sé. Forza, andiamo! Ma a vivere tipo delle avventure nel Regno dei Funghi? Andiamo a fare Mario 64? Ci stanno aspettando, spero che tu sia pronto per la partenza. Ma partenza per dove? Mi sembri preoccupato, ma non c'è nulla da temere. Mario è un tenista eccezionale e bisogna solo sentirsi lusingati di poter giocare con lui, capito? Ma sì, certo! Forza, allora andiamo! Woohoo! Ti stanno aspettando tutti, Max! Pronti a partire al castello della principessa Peach. Wow! E io posso venire anch'io? Sono il campione ammesso nel mondo di Mario, perciò tu... Oh no, Tina, devo vincere anche il doppio ora. E non piangere, su piccoletta. Va bene, ha capito, facciamo anche il doppio, va bene? Portate anche lei con voi, chi è? Ah, è preside. Ah, quindi se viene anche lei non devo fare il doppio, bene. Ma direttore, sa bene che può soltanto il campione. È contro il regolamento, lei non può entrare. Anche Mario ha fatto una strappa alla regola giocando con un campione di tennis. Eh sì! Sono costernato, però non voglio e non posso prendere una decisione simile. Falla prendere a Mario? Se Mario dà il suo, ok, secondo me andrà tutto bene. Allora posso venire? Va bene. Quante qui squiglie, però. Dunque diciamo di sì, ma io non vi prometto niente. Oh sì! Let's go! Andiamo a piedi fino al mondo di Mario? Certo che no, andremo in aereo. E dobbiamo anche fare in fretta perché siamo in leggero ritardo. Va bene. Max, Tina, spero che vi divertirete. Salutatemi la principessa Peach. Ho dei meravigliosi ricordi degli incontri giocati nel mondo di Mario. Spero vivamente che anche loro abbiano dei ricordi intrammontabili di questo viaggio. Wow. Ah, ecco perché. Sta in cielo. Ora ho capito. Mastro Todd! Ora sono impegnato. Parliamo più tardi. Accidenti. Ecco, ti ti ritorno Mario. Ce ne hai messo di tempo. Woohoo! La gente ti sta aspettando al Palapitch per dare via il torneo. Un altro? Sei tu, Max? Questo torneo è un luogo in tuo onore. Woohoo! E tu, Mario, sbrigati. Non è bello far attendere la principessa Peach? No, no, no. Ciao, ciao! Faresti prima a correre, mi sa, eh. E noi che facciamo? Proseguite per questa strada e arriverete dritti a Palapitch. C'è un torneo di tennis nello stadio della principessa, vero? Sì, e fareste meglio a sprigarvi voi due. Proseguite su questa strada sempre dritti. No, ce ne... Ma dobbiamo andarmene! Devo andare a fare l'allenamento speciale per vincere il torneo di Peach. Sennò come faccio? Mi distruggono. Oddio, il Nokia! È un Nokia questo! Sì, sono Max! Oddio, Palmensi! Grandi! Eh sì, Mario Sascha già era uscito. Bellissimo. Levati, per favore. Oh, i girasoli. Che bello. Signore e signori, comincia il torneo. Bello il campo. Un po' rosa, eh. Appena appena è giusto, proprio. Oh, ecco di qui. Max, che piacere. Salve, principessa. Oh, dice Donkey Kong. Che fa il Donkey Kong? E tanto per cambiare non c'è Wario, ma War Luigi. Max, ti stavo aspettando. Sei l'ospite d'onore, perciò rilassati e accomodati. Facciamo una fritta con le cerimonie e cominciamo a tornare piuttosto. Infatti, basta con i convenevoli e passiamo all'azione! Uè! Voi, come mi permettete di rivolgervi in questo modo alla principessa Peach? Sei tu che le hai messi lì sopra, quindi. Su, dai! Mario, io e te dobbiamo difendere la principessa da questi male ducati. Ha maggior ragione. Se non mi piacciono i nostri modi, allora iniziamo a giocare via. Sono stufo di aspettare. E quando sono stufo divento molto irascibile. Oppure Luigi, vuoi aiutarmi tu a ritrovare la calma? Oh oh! Buono, Luigi! Va bene, ci siamo scaldati? Tutti quanti a posto con l'ugola? Noi ci penso a Peach! Svai tetra di bisticciare e che cominci il torneo, sia che Bowser lo voglia o no! Ah, certo. Per accontentarlo. Vi annuncio l'apertura del torneo! Ok. Max contro Peach, Bowser poi contro di me. Donkey Konga contro Mario e poi il vincitore contro Waluigi. E poi il vincitore di quella sfida contro di me. Sì, perché io arriverò in finale, ovvio. Ma così? Di prepotenza? Oh no, per l'agitazione ha premuto subito A. Peach! Ok, la palla rimbalza in maniera strana su questo campo. Mi pare che abbia poco rimbalzo, mi pare. Ma è grande sto campo o mi sbaglio? Mi dà l'impressione che sia più grande degli altri. Allora, Peach, se mi ricordo è un tipo tecnico a dire vero, ma non mi pare. No! E si va bene. Allora, no, no. Senti, no, no, no. Senti un po'. Senti. Scusami, Peach. Allora, io ti voglio bene, però non fino a quel punto. Cioè, wow! Non è un po' troppo? Ma intendo per qualsiasi personaggio di qualsiasi videogioco. Uoioi! Bravissima lei! Oh no! Il cuore! Mi fa... Eh, vabbè. Però così no, Peach. Cioè, sei fortissima tu. No, 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 no. Dai! Ma non può... No, ogni volta così vince? Eh, meno male. Bene. Molto bene. Wow. Wow. Mamma mia. Forte proprio, Peach, eh? Cioè, non come Dario o Leo, ma è forte. Più che altro Dario e Leo perché curvano le palle in maniera tremenda. Davvero. Troppo. Le curvano davvero troppo, le curvano. Bene. Oh, bagliatissima proprio quella. Ho preso malissimo. No, dove è andato? Tocca a giocare sotto ordine anche con te, Peach. Molto bene. Bene. Wow. Molto bene. Ci sono. Vai. No, vabbè, sì. Ma che fai? Ho premuto L? Vabbè, con la tastiera è un po' difficile, eh. A trovare i tasti L e R, a dire il vero, eh. Se posso proprio dare una disco... Vabbè, sì. Buono. Eh, prendi questa, Peach. Molto bene. Eh, vabbè, è un po' difficile, Pialla, così, eh. Quello di Peach ti stordisce, non ti fa prendere il controllo sul personaggio per qualche secondo. No, 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 no. Vai. Finalmente. Oh, yes. Wow. No. Iniziamo male, Peach. No. Bene. Ok. Wow. Ok. Wow. Grazie, desafie. Oh, grazie. Oh, wow. Ok. Oh, ecco. Ufff... Bane! Ufff... Ufff... Ok... No, non è ok... O invece è ok... Ok, ci siamo... Dai, dai, dai... Bene! Bene! Wow! Wow! Fortissima Peach! Davvero, davvero forte! Wow! Fortissima! Non mi aspettavo un'avversaria così tosta! Brava! Non mi ricordavo fosse così forte! Wow! Bene! Uuuuh! Personaggio stella! Eh, amico mio! Sì! Mario ha vinto! Quindi è Mario contro Val Luigi! Interrompi il torneo? No, no! Continuiamo il torneo! Però... Amici! Il video per oggi termina qui! Ovviamente domani continua Mario Power Tennis e anche le altre serie! Perché carico due video al giorno in questo periodo! Comunque! Io come sempre! Vi ringrazio per aver seguito il video! Spero che vi sia piaciuto! In descrizione trovate tutti quanti i link utili! E noi ci vediamo ovviamente domani! Bye bye!